Dunque, soliti momenti di ansia per verificare se siamo online o no, ma a meno di soliti imprevisti che creano disagio, siamo live, datemi il tempo di aggiornare il browser. Sì, è così, siamo online, buon pomeriggio a tutti, bentornati in micidivray.it, bentornati su One Man Army, primo appuntamento della giornata dedicato a Star Wars Battlefront, al primo DLC a pagamento per i non detentori del Season Pass, mentre per chi come me ha il Season Pass è disponibile da ieri, 22 marzo. Cosa è successo? La live è stata rinviata due volte ieri per problemi di download appunto di questo DLC e anche dell'aggiornamento che ha subito Star Wars Battlefront che pesava circa 9 giga, l'ho finito di scaricare ieri, ci sto giocando da stamattina e avremmo un pochettino di cui parlare fino alle 17, momento in cui arriverà Francesco con Dark Souls 3, l'attesissimo Dark Souls 3. Allora, in questa live vedremo un pochettino le mappe e la nuova modalità di gioco, discuteremo di tutto quello che c'è di nuovo, poi una volta finita questa live inizierò a scrivere la review che uscirà questo fine settimana sulle pagine di EvryEye.it. Allora, prima di andare a giocare, che cosa ha introdotto questo nuovo DLC, nonché primo DLC di Star Wars Battlefront, chiamato Orlo Esterno? Ha introdotto due nuovi eroi, di cui adesso mi sfugge il nome perché sono discretamente impronunciabili, ma che andremo a vedere nel corso della partita se riusciremo a giocarli. Tre nuove mappe da quello che ho giocato, che sono due su Tatooine e una su... quelle su Tatooine ambientate nel palazzo e nella residenza di Jabba the Hat, mentre la terza è ambientata in una fonderia di Sallast, del pianeta di Sallast, o sull'usto, chiamatelo come volete, e oltre a diverse migliorie inerenti a alcuni fix riguardanti alcuni eroi, piuttosto che alcuni aspetti del gioco, sono state introdotte una serie di nuove armi, una serie di nuove carte, ottenibili tramite le sfide di Jabba the Hat. Che cosa sono queste sfide di Jabba the Hat, o meglio Contratti Hat, che è una delle novità introdotte in questo DLC? Le vediamo in questo momento, sono appunto delle sfide delle challenge che una volta completate ci permetteranno di sbloccare nuove armi, DL18, DLT19X, eccetera, eccetera, e alcune novità che sono costituite da delle carte che, sapete, sono utilizzabili in game e vanno a darci delle sorte di power up. È una cosa che io ho apprezzato molto, non sono ancora riuscito a utilizzarle, o meglio a cimentarmi in queste sfide, perché devo raggiungere il rango 12, sono di rango abbastanza basso, non ho giocato molto bene, molto, meno, molto bene, scusate, non ho giocato molto a Star Wars Battlefront, l'ho giocato sporadicamente. Intanto saluto tutti i ragazzi in chat, Pippo Inzaghi, Gigi, Rogash, Matthew, Penossi, Pippo Inzaghi che mi dice che i nuovi eroi sono Grido e Niennamb. Diciamo, della sfida di Hat, sono una variante carina del classico ottenimento di armi e carte che era stato pensato da Star Wars Battlefront, ovvero gioco, salgo di rango, ottengo crediti, sblocco le cose. Sono abbastanza impegnative queste sfide, vedete che penso esegui tre serie di uccisioni fucile di precisione, quindi uccisioni con il fucile cycler, eccetera, eccetera, sono abbastanza articolate, quindi non saranno proprio molto facili, o meglio immediate, da portare a termine. Oltre ai contratti Hat, vi dicevo, è stato anche aumentato il level cap da livello 50 al livello 60, io sono lontanissimo da tutti e due i traguardi, e una nuova modalità che sul sito e nelle prime news veniva chiamata come invio, una cosa del genere, mentre in game, ci ho messo un po' a capirlo, ha cambiato nome, incomprensibilmente, senza che nessuno dicesse nulla, e si chiama, ve la faccio vedere, estrazione. Cosa prevede estrazione? Ovviamente divide le squadre in imperiali e ribelli, i ribelli dovranno scortare una consegna al punto di restazione e gli imperiali devono fermarli, ci saranno tre checkpoint all'interno della mappa, quindi ogni volta che raggiungeremo un checkpoint impersonando i ribelli ovviamente il tempo aumenterà, sono tre checkpoint fino al punto di consegna, l'obiettivo degli imperiali è quello di evitare che questo cargo, questa consegna, aggiunga destilazione per poi effettuare l'estrazione. Sono giocabili tutti gli eroi disponibili, compresi quelli nuovi, ci sono i veicoli, ci sono i power up, quindi una classica modalità che, vi dico subito, non riesce a risolvere un pochettino il problema di Star Wars Battlefront, ovvero che nonostante le modalità prevedano obiettivi diversi alla fine si finisce quasi sempre per pensare ad uccidere gli avversari dimenticandosi totalmente l'obiettivo della modalità, in estrazione però questa cosa l'ho avvertita un pochettino meno, nel senso che in molte partite comunque sia i player all'interno del match si concentravano tutti nella zona dell'obiettivo, quindi questo rende la sfida un pochettino più caotica, ma comunque sia divertente. Le tre mappe che ho provato, di cui tra l'altro, adesso non voglio fare critiche troppo esagerate a Electronic Arts, ma nella lista delle features nuove del DLC indicava solo mappe, quindi ci ho messo circa un'ora per capire che erano tra le mappe, non 50. Quelle nuove, ripeto, sono due ambientate su Tatooine, una ambientata sul pianeta di Sallas, sta all'interno di una fonderia, sono tutte e tre piccole, quindi piccole o meglio, ambientate in ambienti interni, una ambientata nel deposito del palazzo di Jabba de Yat, una proprio all'interno del palazzo di Jabba de Yat e un'altra, come vi dicevo, in una fonderia di un pianeta remoto dell'orlo esterno. Si confermano bene o male come punto di forza della produzione, l'estetica di Star Wars Battlefront è la cosa migliore del gioco, per il resto, come avete potuto vedere, sentire e capire anche giocandoci, non è che ci sono tante innovazioni a livello di gameplay, è stata rifatta anche la grafica del menu principale, sistemando alcune cosine che rendevano un pochettino tutto un pochettino più confuso, e nulla, quindi adesso andremo a giocare, parleremo, discuteremo, se avete delle domande, sparatemele tutte in chat, vi rispondo tranquillamente, mi dispiace non poter azionare i contratti di Jabba, ma alla fine non è che succeda qualcosa di particolare. La schermata mi piace tantissimo, Jabba the Hutt è talmente brutto che è bello, è fatto molto molto bene, la musichina è molto evocativa, come al solito vi dicevo la produzione punta sull'estetica e sul clima che si respira all'interno del titolo, che è molto Star Warsiano, è Star Wars. Direi di andare a giocare, magari giocando riusciamo anche ad arrivare al grado 12, ad attivare qualche sfida, vediamo, abbiamo un'oretta, 50 minuti a nostra disposizione. Nonostante io abbia abbandonato Star Wars Battlefront abbastanza presto in questi mesi, ha comunque subito diversi aggiornamenti nel corso dei mesi che hanno sistemato alcune cosine e adesso tutto sommato il gioco è più godibile e con questo aggiornamento è un pochettino migliore. Ecco qua, Palazzo di Jabba, questa è proprio la mappa che vi dicevo prima ambientata all'interno del Palazzo di Jabba. Rogash dice, sarò l'unico al mondo ma io sto gioco lo amo? Beh, ovviamente ha diviso molto sia la critica sia i giocatori per la sua natura casual, diciamola così. Io mi diverto ogni volta che ci gioco. Secondo te come mai Star Wars Battlefront non ha avuto il successo sperato? Secondo me per due diversi fattori. Quando tu chiami un gioco Star Wars sai già che il 90%, anzi forse dai un po' meno, 80-85% delle persone che andranno a giocarci saranno fan della saga, quindi che cercano qualcosa, un impianto ludico secondo me un pochettino più articolato e anche competitivo ambientato all'universo di Star Wars per essere un FPS. Questo non è successo. Modalità sono state poco innovative, poco... poca roba, insomma. E poi gli eroi, se all'inizio con la promessa di migliorare il parco disponibile degli eroi si era comunque accettato un pochettino il compromesso al lancio, con questo DLC ci si aspettava tutti. Sì, quantomeno, se non dico i personaggi di The Force Awakens, ma un Obi-Wan Kenobi, Yoda, personaggi più iconici. Sì, invece ci sono stati rifilati questi due super comprimari che tra l'altro sono skin già presenti in game e quindi si tratta semplicemente di un reskin, neanche reskin, di dare dei power up a dei personaggi già esistenti, a dei design già esistenti nel gioco e questo è un grosso limite. Mattia, ciao Yuri, ho avuto modo di vedere se qualcuno avete la pagina di video su un console e sinceramente non trovo niente di nuovo. Di The Division parleremo domani pomeriggio. E Giove appunto sottolinea come i due eroi siano una delusione. Esattamente, esattamente. Una cosa che poi sinceramente parlavo anche stamattina con Andrea Porta su Whatsapp che magari ci sta guardando, ciao Andy, è mi infastidisce molto il fatto che non ci sia una piccola fase di tutorial o una modalità overview, diciamo così, sugli eroi che ti permetta di capire bene come funzionino queste abilità che hanno. A maggior ragione adesso che sono stati rilasciati due nuovi eroi. L'unica soluzione che si ha è buttarsi in game, sperare di trovarli e capire come utilizzarli. Ecco, è una soluzione quantomeno curiosa. Mentre se abbiamo piacere di vedere la mappa, vedete che risulta ancora il punto di forza della produzione di queste mappe. Ma non era stato dichiarato che non ci saranno contenuti nell'episodio 7? Sì, è stato accennato qualcosa, però sai, la speranza è l'ultima a morire. Ti ricevo, forse non era lecito aspettarsi qualcosa di The Force Awakens, ma almeno Obi-Wan o Yoda, insomma, personaggi più iconici dell'universo di Star Wars, sì. Almeno io mi aspettavo quello. Quando sono stati annunciati questi due eroi, sono rimasto un pochettino deluso. Ciao a tutti, questo DLC è davvero così brutto? Ciao Enzo. Wow, così brutto? No, no. Nel senso, sono partito molto deluso dopo le prime ore di gioco, poi piano piano mi sono ricreduto per diversi motivi che adesso discuteremo. Mi sono al connessor, ciao Dardox, Dardoxeno. Questo gioco come ha messo a livello di supporto? Personal Waste Online vale il prezzo del biglietto, i contenuti aggiunti come sono? Wow. Allora, come ho ripetuto sempre nelle live di Star Wars che ho seguito io, comunque, tranne la review, è uno dei giochi che seguo, è un gioco che ha una natura molto casual, sia dal punto di vista proprio dell'impianto ludico di gameplay, che è molto immediato, molto facile, molto arcade, per capirci, prendi e spara, nonostante ci siano queste carte e questi piccoli power-up che, comunque sia, offrono un pochettino di diversificazione, è un gioco che va preso molto alla leggera, se sei fan di Star Wars dovrei accontentarti di giocare nell'universo di Star Wars, punto e basta, non troverai nulla di particolarmente stimolante a livello ludico, ecco. È molto basic come impianto, mentre, per quanto riguarda l'estetica, partendo dalla musica, alle mappe, a level design, è di ottimo, ottimo livello. Ci sono nuove modalità nel DLC? Mi chiede pagliaccio di fumo. Sì, c'è questa nuova modalità che sul sito di Electronic Arts viene chiamata invio, una roba del genere, mentre in-game è chiamata estrazione, inspiegabile come cosa, comunque sia. Domanda da ignoranti di questo gioco, ma la visuale dei Jedi è in terza persona? Quando utilizzi l'eroe, giochi in terza persona, esatto. Dexter mi corregge, sugli eroi nelle missioni single player è possibile usare direttamente l'eroe che preferisci per imparare a usarli? Sì, ok, assolutamente, io mi riferivo semplicemente alla parte multiplayer o proprio a una cosa aggiuntiva nel menu, basterebbe semplicemente un piccolo menu a tendina con scritto eroi dove ti dà una piccola grafica dove descrive l'eroe, ti spiega i poteri, eccetera, eccetera. Solo questo, ecco, bastava questo. Invece, questo non c'è. Oddio, double kill, pesantissima, mi metto dietro Vader. Per cercare di approfondire un pochettino la domanda sul ne vale la pena o no, come ti dicevo, è molto, molto soggettiva la cosa. Per quanto mi riguarda è un gioco che preso a piccole dosi mi diverte molto, mi sto divertendo a giocare in questi giorni. Ma se dovessi pensare di passarci delle giornate intere, assolutamente no. In cosa consiste la nuova modalità del DLC? chiede Pagliaccio. Allora, ovviamente ti divide come al solito in ribelli e imperiali, guardate quanto è bella Tatooine. lo scopo è quello di, nel caso in cui impersonifichi i ribelli, di portare un cargo, quindi una sorta di carro con sopra della merce, al punto di estrazione passando per tre checkpoint. Ogni volta che raggiungi un checkpoint il tempo aumenta, mentre gli imperiali devono cercare di sventare appunto il trasporto di ribelli a parte di questo cargo, che è questo qua che state vedendo in questo momento. Ciao Serp Ricordo, questo poi è un aspetto che affronterò in serie di review ed è una delle domande che mi viene fatta più spesso quando parlo di espansioni è a pagamento per chi non possiede il Season Pass. Il prezzo mi sfugge, ciao Andy, benvenuto, però ne parleremo visto che questo è ciò che molti mi chiederanno se vale o non l'acquisto. Hanno aggiunto armi nuove? Sì, hanno aggiunto una serie di armi nuove e carte anche che se andate a leggere le news che trovate in giro anche sul sito di Electronic Arts non vengono specificate quante e come vanno ottenute queste armi, ve lo dico io, sono ottenibili tramite quella nuova modalità chiamiamola così di challenge chiamate i contratti di HAT dove sostanzialmente attiviamo delle sfide che Jabba di HAT ci dà se le portiamo a termine ci vengono date come ricompense determinate armi e determinate carte. Yuri sono tuo padre lol allora, Petrolic27 ciao, ho una domanda io non ho ancora comprato il gioco ma lo farò nei prossimi mesi perché sono appassionato della saga bene, volevo sapere come sarà tra qualche mese ci sarà il deserto totale di giocatori che giocano col passare dei mesi? Dunque, 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 io sono rimasto stupito dalla quantità di player che trovi adesso in matchmaking riservato ai possessori del DLC quindi per chi ha il season pass devo dire che sono tante, tante, tante persone trovo partite la affica quasi mai con gli stessi giocatori in lobby quindi vuol dire che c'è tanta gente che ci gioca questo è il primo DLC di una serie di 4 che saranno compresi nel season pass tra l'altro il menu di gioco è stato aggiornato quindi se andate nella sezione dedicata ai DLC trovate già qualche piccola informazione sui 3 anzi sui 2 futuri DLC mentre il quarto è ancora è ancora top secret non viene detto nulla uno è mi sembra ambientato sulla morte nera l'altro mi sfugge ma dopo lo andiamo a vedere per curiosità come dice Andy una volta che finiranno i DLC la community diminuirà diminuirà vertiginosamente adesso siamo ancora tutti speranzosi che questi DLC ci portino ad apprezzare un pochettino di più il titolo per quanto riguarda le mappe possiamo vederle ragazzi sono molto belle anche questa ambientata nel palazzo di Jabba è davvero bella poi vedremo anche le altre due nei prossimi match ci piacciono mi piacciono molto sono il punto di forza dell'intera produzione l'estetica in generale sia dal level design sia alle colonne sonore per quanto riguarda l'impianto ludico è molto basic parlando di FPS è molto molto basic le uniche varianti sono queste carte e power up che possiamo trovare all'interno della mappa ma comunque sia sono cose che abbiamo già visto l'altro è su Bespin no allora il sito di electronic arts dice che è su Sallast o Sullust chiamatela come volete e sto parlando della mappa della fonderia mentre le altre due sono ambe due su Tatooine e ambe due ambientate nella reggia di Jabba the Hat una nel deposito l'altra appunto nel palazzo che è questa qua che stiamo giocando in questo momento ciao robe ciao Zack mi capita spesso di fermarmi a guardare la mappa perché è notevole perché è davvero davvero notevole anche all'interno il modo in cui sono realizzate e caratterizzate è davvero bello è davvero bello tra l'altro come vi dicevo stiamo perdendo perché vedete che i ribelli hanno portato il loro cargo a 2 checkpoint su 3 e sono vicinissimi al terzo Rock e Enzo nei mesi passati si era parlato di un DLC sulla story mode hanno ancora intenzione di farlo non se ne sa più nulla è sparito tutto completamente ovviamente mi sono dimenticato di dire che le mappe sono giocabili anche nella modalità sfida quindi quella su Tatooine su Salast e magari dopo le vediamo Dardoxino la cosa che non mi spinge a comprare è il fatto che quello che sembra sì sì diciamo che il prezzo come dici tu essendo un titolo only online pagato a prezzo pieno insomma ha i suoi pro e i suoi contro ma io dico un bel sicuro esatto come dicendi arriva un action è in sviluppo è in sviluppo un action ambientato all'universo di Star Wars quindi non temete e siate fiduciosi con qualche meccanica RPG sì diciamo che se tirano fuori qualcosa in stile Old Republic un pochettino più action diminuendo magari un pochettino la componente RPG viene fuori e affigata speriamo mi sfugge adesso il nome dello studio che c'è là in produzione Andy ve lo sa dire esatto Visceral Visceral allora anzi invece di rigiocare andiamo a vedere un pochettino quello che vi dicevo prima parlare più rapidamente non può capisce tutto ma grazie per la Steam and from events if you want to to ask me a question in English there's no problem I will answer you I can speak English ma basta con questi giochi always online ma ci sono i livelli in cui si possono usare le navicelle come il vecchio Battlefront c'è una modalità che Mattia prevede l'utilizzo solamente delle navi che è vecchia è stata già introtta al day one del gioco dunque come vi dicevo la seconda modalità sarà Bespin ecco qua la modalità scusate DLC che uscirà in estate 2016 diventa il carciotero la preda in questa esperienza mozzafiato ambientato nella città le nuove di Bespin non ci è non ci è detto di più però come vi dicevo già qualcosina si sa mentre Morte Nera questa mi ha fatto solbalzare autunno 2016 non è una luna quella una delle località più celebre dell'universo di Star Wars debutta in Star Wars Battlefront siamo molto curiosi espansione 4 ci mi ha detto semplicemente inizio 2017 rogas che English Yuri si me la cavicchio con l'inglese dai anzi un pochettino di più di cavicchio dai sono onesto no non sono madrelingua l'ho studiato a scuola e l'ho migliorato viaggiando molto e penso sia anche un po' di attitudine alla lingua tutto qua dicevo le missioni single player eccole qua dunque adesso andando a memoria andando a memoria dovrebbero essere eccola qua questa qua su Salast che vi dicevo oppure no adesso mi sfugge non devo andare a rileggere comunque c'è anche qualcosa inerente alle missioni single player è stato aggiunto qualcosa adesso mi sfugge proprio nello specifico però dovrebbe esserci qualcosina dunque continuiamo con la nuova modalità estrazione cerchiamo di trovare le altre due mappe e via il problema degli eroi è che il gioco ha ambientato durante la trilogia originale diciamo la verità i personaggi adatti all'essere eroi non sono molti no però al posto dei due che ci hanno rifilato in questo DLC Obi-Wan ancora questa Obi-Wan e Yoda sarebbero stati molto meglio a mio parere con l'espansione morte nera metteranno la modalità online con le navi cene nello spazio con il vecchio battlefront speriamo sarebbe qualcosa di carino e secondo me anche non molto difficile da realizzare perché la modalità simile c'è già basterebbe adattarla al level design della morte nera non penso che richieda molto tempo di lavorazione quindi è attendibile aspettarci una cosa del genere l'espansione 4 cercano di rilanciarla con lo spin off di rilanciarla con lo spin off che esce nel 2016 al cinema per sfruttare un po' di hype Star Wars è un marchio che si vende da solo secondo me sì hai ragione infatti nonostante questo gioco sia stato discretamente criticato ha comunque venduto Pippo in zangio 92 Yuri ma come lo metti Yoda penso sia complicato proprio integrarlo nel gioco insomma se hanno messo Palpatine e tra l'altro che ha delle abilità tipo quella dove fa quel movimento super veloce si può benissimo anche utilizzare Yoda sostanzialmente potresti usare un Jedi sarei curioso di vederlo allora finiamo di vedere le altre due mappe poi ci buttiamo nella modalità eroi così vediamo anche gli eroi nuovi e contemporaneamente anche i Jedi Yoda è fattibile sì assolutamente eccola qua garage del palazzo questa è la seconda mappa ambientata su Tatooine come vi dicevo prima ambientata sempre nel palazzo di Jabba ma nel garage del palazzo quindi vedremo anche i classici velieri che navi velieri nel deserto di Tatooine quando Luke viene dato in pasto al mostriccione del deserto si può salire anche su una di queste molto carino penso che il problema di integrare Yoda comunque ragazzi non sussista nel senso non è un personaggio super impegnativo da ficcare dentro soprattutto visto che hanno messo tutti sostanzialmente trovando anche delle abilità credibili per tutti quanti non c'è nulla di forzato secondo me sotto questo punto e ripeto se c'è Palpatine può benissimo starci anche Yoda vedete come vi dicevo sono tutte mappe ambientate in ambienti interni scelta secondo me azzeccata perché le mappe che erano presenti nel catalogo normale andavano un pochettino troppo verso la dispersione ci ne erano poche al chiuso e non molto carine tra l'altro quelle al chiuso secondo me queste qua invece sono un'aggiunta ottima secondo me più che giusta io corro in faccia ai nemici proprio senza paura double kill lui mi shotta con la pistola da scout comunque sia ragazzi fatemi piacere se qualcuno di voi riesce a documentarsi o anche Andy se lo sai se puoi confermarmi il fatto che abbiano aggiunto anche delle cose nuove per quanto riguarda il pve quindi sopravvivenza eccetera perché l'ho letto stamattina ma non ci ho ancora giocato e mi sfugge probabilmente che io mi stia confondendo anche perché ho passato più tempo a capire quante mappe ci fossero quanti armi nuove ci fossero perché come vi dicevo elettronic arts non ha specificato nulla è stata molto vaga ci sono nuove mappe nuove armi punto ma la nuova modalità è esclusiva dlc sì frank almeno così è scritto sul sito di elettronic arts perché è riportata sotto la la descrizione del dlc però visto appunto quello che vi dicevo adesso è probabile che venga smentito però mi pare proprio che si un'altra cosa che odio è la la minimappa il ping non si capisce mai a che distanza siano i nemici quando te li pinga sulla mappa fastidiosa questa cosa ma da quanta gente io non ho ancora il jetpack perché sono un nabbo ecco qua questo è uno dei nuovi eroi grido ecco qua questa è una appunto di navi veliero di cui vi parlavo adesso se riusciamo se non ci kill non ci saliamo cosa ne pensi dell'ultimo capitolo della saga matti vuoi la risposta breve o quella lunga come direbbe Daredevil la verità vabbè comunque qua parafrasiamo John Luke ma se l'ultima espansione sarà a fine 2016 no inizio 2017 la dice ricomincerà a lavorare su Battlefield con uscita a fine 2017 o 2018 non ti saprei rispondere uscirà la versione del gioco con tutti i DLC con uscita a nuovo film non saprei dirtelo è probabile che magari più in là esca una Definitive Edition con tutti e quattro i DLC ma non saprei dirtelo con certezza vedete comunque anche come l'interazione con l'ambiente sia credibile come preferisci ti do quella breve sì mi è piaciuto tanto sì ci sono molte cose che funzionano e anche cose che funzionano meno però mi è piaciuto tanto era tanto che non vedevo un film di Star Wars che mi piacesse così fucile disintegratore non mi piace da usare quindi non lo userò andiamo a fare un po' di spawn kill dai qua usciamo dalla mappa è probabile che loro arrivino da da qua ah sono morto qua continuo a sblocare achievement segno del fatto che non ci abbia giocato molto ok vedete abbiamo sbloccato un checkpoint quindi possiamo avanzare anche nella mappa in questa zona che prima ci era ci era negata ed è l'unica porzione di mappa ambientata all'esterno dove poi effettivamente si svolge un po' di guerra Batman o Superman Batman tutta la vita Thanos Clark Kent e anche Superman mi stanno sulle palle ciao Peppe benvenuto siamo quasi eh ci siamo siamo quasi arrivati al punto di estrazione quindi bisogna tenere duro io mi metto in posizioni meschine in modo tale che non mi vedano ma io ma che io veda loro e possa killarli da buon codardo ahia mi hanno visto Star Wars o Star Trek non devi neanche chiedermelo Star Trek è molto bello ma sono amante viscerale di Star Wars ciao Dexter grazie alla compagnia dunque andiamo a fare un po' di spawn kill quello sta lì sopra con il cecchino si sta facendo odiare oh no l'ho lasciato one shot che babbo io però vi sparo non per killarvi perché so che non ce la faccio non per rompervi le balle vedete che questa mappa comunque è molto carina è vincente è vincente sul lato level design battlefront come diavolo fanno a salire lì bene l'obiettivo si sta muovendo e muorici malissimo anche te cosa ne pensi Yuri del virtual reality di ps4 che uscirà a un prezzo di 400 fottuti euro anche te Andy cosa ne pensi dunque io avevo già espresso un mio parere sulla mia pagina facebook dicendo che è la strada giusta sia come prezzo sia come formula per introdurre questa nuova tecnologia che rispetto ad HTC e Valve è molto più economica anche se è inferiore a livello di specifiche vedremo poi prima di tutto quanto costerà il bundle con la camera con la ps4 con la camera quindi quella per la ps4 camera per capirci i controller move vedremo quale sarà il prezzo del bundle finale io penso che comunque non arrivi a 500 euro quindi sia vincente come formula ciao dombia benvenuto 23 kill 14 morti direi che ci siamo ecco qua ultima mappa la fonderia conduttore sorosub ah no questa è una quarta mappa che non avevo ancora giocato ragazzi vedete sempre per rimanere il discorso che vi dicevo prima sono quattro mappe e questo qua è uno dei nuovi eroi vediamo anche le le sue abilità tra l'altro ecco ho sblocato l'achievement di giocare tutte le mappe all'orlo esterno lol vedete il discorso vi dicevo prima che le Tronic Arts hanno letto quante erano le mappe e sono quattro quindi due su Salast e due su su Tatooine comunque grido sensi sviluppati granata di oxys e colpi di precisione fiducia all'aumentare della sua fiducia grido combatte con più coraggio riempite cariche eseguendo uccisione o danni generi eroi determina il tipo di granata bla 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 usiamo Palpatine come sto battlefront dopo un po' di mesi dall'uscita ben supportato sia per contenuti che per patch fix di problemi dunque sul fattore ben supportato non saprei risponderti sinceramente perché non ci gioco moltissimo però ci sono aggiornamenti costanti e questo DLC comunque si aggiunge un po' di roba direi poi c'è da discutere nella qualità che la discuteremo nella review che uscirà questo fine settimana nella mia review però se ci limitiamo al fattore contenuto insomma 4 nuove mappe diverse armi diverse carte una nuova modalità i contratti di jabba c'è un bel po' di roba uh io sono quasi morto ecco non sono capace di usargli l'eroe quindi potrei prendere pisellate via vinto così facile i visori secondo me non sono adatti al gioco poi spero ovviamente di sbagliarmi prima l'impressione quella vedremo io sono curioso di giocare a battlefront con il VR sinceramente molto molto curioso ecco qua usiamo grido vi dico subito che non ho ancora capito bene come utilizzarlo le abilità sono quelle che vi ho fatto vedere prima vedremo un pochettino cercheremo di giocare un po' safe che bello arrivare in diretta e sentire parli pisellate sei arrivato nel momento giusto non ha la spada l'imperatore no non la si può utilizzare dunque eccolo qua vedete che più lo si utilizza più la barra sopra la vita si carica la prima abilità è quella con la Y che non ho ancora ben capito cosa fa e l'abilità quella invece di sinistra quindi quella con LB ci permette di lanciare una granata quella di destra non ho ancora ben capito cosa serve Luke Skywalker devo scappare Vader scusa c'è tuo figlio aiutami mi stai inseguendo incazzato nero io scappo sto laggando tantissimo ho droppato la granata sono morto bene abbiamo miseramente perso vedete che non sono bravissimo a usare gli eroi vi ricordo ragazzi che alle 17 arriva Francesco con Dark Souls 3 versione PC quindi non andate via dunque le abilità di Vader sono molto più facili con Y tiriamo spadate laser con RB lanciamo la spada laser con RB come si dice stranangoliamo le persone e con invece grilletto sinistro ci difendiamo e respingiamo indietro i colpi di blaster ahia il suono delle armi si come dicevo l'impianto sonoro e grafico sono tra le cose migliori della produzione aia ho provato a fare il force choke a Luke ma mi ha dunque dunque sono l'unico rimasto in vita scappo ciao fracca eh niente vabbè ero accerchiato qualche kill l'ho fatta palpatine l'ho fatta dunque vedete che tra l'altro l'abilità di palpatine ha un cooldown l'ho scoperto adesso e vabbè ma è troppo pigliuk cioè e muori skywalker niente son morto male vabbè fa poco danno palpatine cioè quando lo uso io mi shottano quando lo uso io non faccio danno l'ultimo eroe è rimasto in gara eccolo qua torretti troppo forti e andiamo a vincere l'imperatore eh scuogli sono uno di quelli che non li sa usare gli eroi quindi cadi proprio a fagiulo e però prendo vader sto giro bambi Il nostro primo eroe è già caduto malamente Sono io scemo Vader sembra più cazzuto probabilmente lo è anche il più easy friendly Crepa Luke Muori muori Anche te capitano solo devi morire E ti tiro le spade laser in faccia finchè Che diavolo Brutta Niente Last man standing Boba Fett E la ma dai Qual è il personaggio più forte di questo gioco in pvp? Da quello che ti posso dire io mi trovo molto bene con Luke Skywalker e Darth Vader Poi ovviamente diventa soggettiva la cosa Anche un solo è molto forte e anche Boba Fett Ad essere sinceri eh Dunque io direi di Ciao Indiana Io direi di uscire da questa partita Cercarne un'altra In estrazione Magari vedendo la mappa che non abbiamo visto Che si chiama Ve lo dico subito Raffineria Sorosub Non sto capendo molto come funziona questo modo di dare Un deathmatch o cosa? Dunque Quattro giocatori per team scelgono degli eroi Ovviamente quattro imperiali e quattro ribelli Lo scopo per vincere la partita è eliminare tutti gli altri eroi in gara Ovviamente il resto della squadra è composta dall'affanteria normale Ci sono gli Ewoks Ci sono Ci sono Su Su Endor Li vedi passeggiare E la questione youtube indiana è un pochettino spinosa Sulla mia pagina facebook ne ho parlato Ti consiglio di andare a recuperarti quello che dico lì Palazzo di Jabba Niente ancora qua E va bene La mappa poi ve la descriverò In In sede di review Puoi sparare agli Ewoks? No non si può sparare agli Ewoks Cosa volevo dirvi? L'ultima mappa poi la descriverò in sede di review Così come Cercherò di giudicare ogni singolo Eroe Ci facciamo questa partitina E ci salutiamo Stiamo lasciando spazio a Fra Credo che qualcuno possa servire Aspienti alle unità nemiche Uh double kill Come ti sembra il DLC a me è piaciuto un po' ma deluso dall'eroe buono a differenza di grido Dunque a me gli eroi hanno deluso tutti e due Ma non per un fatto di abilità o chissà che cosa Proprio per il fatto di che eroi ci hanno rifilato Le quattro mappe mi sembrano tutte e quattro carine La modalità anche Quindi tutto sommato se non fosse che gli eroi costituiscono una parte fondamentale del gioco E' una di quelle più iconiche ovviamente Sarei molto più positivo riguardo il giudizio che gli do Proprio in termini anche numerici di voto Purtroppo gli eroi abbassano vertiginosamente la media Alla Ah la granata Mamma mia si è tritta lei Eh la torrettina maledetta Ciao Mau Diciamo che concludiamo Comunque sia le due mappe si assomigliano molto eh O meglio le due mappe su Tatooine E le due mappe sull'altro pianeta sono molto simili l'una dall'altra Novo DLC come trovate le nuove armi mappe Allora le nuove armi non le ho ancora giocate Le nuove mappe invece come dicevo adesso sono belle Soprattutto a livello estetico ovviamente Ma anche a livello di gameplay perché obbligano lo scontro ad un ambiente Insomma delle dinamiche più ravvicinate Sono molto simili tra loro nel senso che le due su Tatooine e le due su Salast si 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 somigliano non è un difetto Mentre per quanto riguarda gli eroi Sono la delusione per quanto riguarda l'espansione Peccato perché sono comunque una parte Nevralgica del titolo Quindi era lecito aspettarsi qualcosina di diverso Abbiamo soldati imperiali in zona Tripla Esatto Chubekka, Yoda, Obi-Wan Ma anche solo Lando sarebbe stato già più carino Più iconico Quindi Diamine Esatto Uh guardate qua dove siamo Bellissimo eh La botola Nella sala del trono di Jabba Qua è dove Luke riesce ad evadere A sconfiggere il mostricione enorme Ciao Beast Ma oh si ho sentito del nuovo day di Destiny Ma secondo te un giocatore di Destiny si potrebbe appassionare a Battlefront Dipende cosa Cosa cerchi Battlefront non è Insomma Sono due titoli proprio diametralmente differenti Quindi dipende cosa cerchi in Battlefront Se cerchi svago Cerchi qualcosa di diverso Oh no 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 Scusami Ma che cazzo fai? Eh muori Eh vader Mamma mia Allora ragazzi 1651 stacchiamo per lasciare spazio a Francesco Ricapitolando troverete la recensione nei prossimi giorni sul sito di verai.it Ovviamente la scriverò io Inizio adesso appena terminata questa live DLC or lo esterno che introduce 4 nuove mappe 2 su Tatooine 2 su Salast 9 armi e carte sbloccabili nelle sfide O meglio nei contratti di Hutt 2 nuovi eroi E una nuova modalità Estrazione Ne parleremo approfonditamente in serie di review Io vi ringrazio per essere stati con noi Noi siete stati tanti e partecipi Mi fa molto piacere Appuntamento con One Man Army domani Ore 18 per The Division E poi venerdì con Battleborn Ecco di Battleborn dovremmo parlare anche molto approfonditamente Perché inizierò a giocarci domani Quindi poi parleremo anche di quello Grazie per essere stati con noi Buona continuazione su verai.it E appuntamento a domani Mentre con me Mentre più tardi Con Francesco Con Dark Souls 3 Versione PC A dopo Ciao ragazzi